buona pasquetta a tutti sono luigio narrax preferita e bentornati su dronze dellokan battle nel mentre il jap è in confusione per bug su bug su bug su bug consiglio se avete ancora difficoltà a fare le road provate a farle adesso avrete un leggero boost ai danni con molti pg quindi conviene andiamo a parlare ancora di che le caulifla con ipoteticamente quale potrebbe essere uno dei loro miglior team ci sono stato dietro abbastanza al loro team building di join the force non super agl o altro in quanto ho dovuto cercare di capire alcune cose in primis se la doppia copia di che le caulifla servisse davvero il perché mi sono fatto questa domanda è perché vedendo bene i link di che le caulifla non è che stiamo parlando di pg a 20 chissà quali link fenomenali che la doppia copia potrebbe causare chissà quale boom in potenza quindi sono andato tramite testing e tutto che però sono testing a 20 questo bug quindi potrei in futuro rivedere alcune cose dei team però per ora sono abbastanza sicuro che siamo comunque a una abbastanza vicini a quale dovrebbe essere il top team ma andiamo con ordine parliamo quindi del join force come state vedendo ormai da diversi secondi anzi da quasi due minuti attualmente sono due leader utilizzabili ovvero che le caulifla oppure young cell r young cell r a un 30 per cento in meno un chi meno ma soprattutto non dai chi agl cosa che per quanto riguarda join force puro la versione top che vedremo non tange però in versioni non complete potrebbe un po far storcere il naso perché ci sono diversi agl davvero buoni analizzando invece i dpt non ce ne sono tanti come potrebbero sembrare ho inserito pressa poco tutte le lr in quanto sono in buona parte join force mettendo sopra gli altri il trio composto da lukukusa gocurale e gpt che sono a mio avviso i tre principali dpt di questo team insieme naturalmente anche la caulifla altre lr buone ci sono come pg non lr barra non join force però c'è poco nulla ho messo raggeta che mi sembra un ottimo pg in questo team che può dire la sua anche se 30 per cento non siamo proprio a livelli altissimi però in versioni incomplete ci sta goku e lr che è sempre un super agl si becca sempre il 100 per cento è pure seian quindi da anche un boost a che le caulifla vegevo anche lui stessa situazione e gogeta gl gogeta penso che sia uno dei pg più sfigati di dock in questo gogeta qua c'è uscito ipoteticamente il miglior pg del gioco oggi non si gioca da nessuna parte decentemente a livelli alti perché e steppoli in un team in un dannatissimo team cebroi l'ha preso e ha fatto quello che ha fatto a golden freezer nel film altro che gogeta a ucciderlo il che è un peccato perché cavolo gogeta è perfetto come pg però davvero un'utilità pari a zero attualmente e in co team l'ho messo però è proprio l'ultima delle scelte in quanto non da alcun genere di busta che le caulifla e si becca un cento per cento c'è di meglio c'è davvero di meglio pensato che tutti gli altri pg danno come minimo un 10 per cento al boost minimo la parte in cui però mi sono trovato più in difficoltà sinceramente nei tank sinceramente non sapevo chi cavolo mettere in questa categoria ho messo botta maghetta int che a rigore di logica probabilmente il miglior tank utilizzabile puro e poi caulifla caulifla come tank può essere una scelta che non capite perché ma sto parlando di una caulifla buildata in un determinato modo ovvero 11 11 additional 15 evasione una caulifla quindi giocata la per dare quel 20 per cento di boost a che le caulifla è buona l'è detta papale papale se non è proprio il massimo non è una cosa bellissima da vedersi però funziona come tank riesce a fare il suo in alternativa naturalmente ci possono essere altri pg goku terzo anche come dps può essere assolutamente una scelta però il problema la sony link che sono abbastanza messi male caulifla invece da una ventata di boost ma anche qui manca diversa roba al joinhead in tolta la versione top ci sono meno scambi di quanto potrebbero sembrare nei supporti la storia si fa leggermente più tranquilla abbiamo grezzaia meno lr joinhead ottimo booster peccato che dia soltanto in difesa abbiamo paragas e broli che è la base c'è il pg probabilmente non d'ho confesa più importante abbiamo ginio lr che nonostante faccia oramai quasi cagare come buffer un 3000 neanche a percentuale è un lr quindi può tankare e joinhead force quindi da un ulteriore boost e da comunque tre chi tora che è molto molto buono però può diventare grande scimmia mandandovi a quel paese il dpt però ci può stare pedopan che nonostante non dia boost alla passiva di che le caulifla da un 40 per cento attacco di attacco quindi non male pro e limited e ultimo non per importanza ho inserito anche il gohan free to play torneo perché è agl da un 25 per cento ai super il team prevalentemente super quindi può funzionare non lo metto anche se lo vedremo tarles in quanto non prende la leaders che quindi mi sembra abbastanza inutile mettere i pg splashati all'interno di queste schede il team come potete vedere da queste prime grafiche presento una marea di possibilità offensive ma davvero poco difensive di supporto davvero buone questo è un peccato perché è una categoria che ad oggi ha bisogno ancora di qualcosa vedremo però in futuro se migliorerà parlando invece dei cavolo ci sono ci sono dei tre team che consiglio parliamo con quello che repto essere il top team o comunque molto vicino ripeto ho provato con sti bug quindi attualmente mi pare che la scelta migliore sia non giocare che le caulifla a tour vedremo una volta se mai e quando correggeranno se c'è qualche novità comunque il top team lo reputo che le caulifla gocuse in una tornazione e la tornazione delle sfere del drago nell'altra quindi gocurale e gpt il team funziona molto bene fuori rotazione abbiamo quindi paragas e broli uniti al carissimo tarles più la naturalmente la che che le caulifla aggiuntiva il team spara cannoni l'utilizzo principale di tarles è utilizzato per dare subito il boost a gocuse che altrimenti può avere alcune difficoltà di andare subito al massimo ma abbiamo anche le caulifla che spara tanto che non è che ripeto non hanno chissà quali link quindi funzionano al meglio gocuse arale e gpt nel loro turno funzionano da dio lo sappiamo che sono due lr che insieme sta bene il cambio di chi di gocurale può aiutare ulteriormente gpt ad andare subito alla 18 che il team gira bene finisce qualsiasi cosa manca però ancora qualcosina è o forse il problema di chi di link di ck a dare maggiori problemi andando però un team invece budget quindi un team che non ha lr oltre questa che le caulifla e non può giocare chissà quali pg andiamo a giocare una che le caulifla con il nostro carissimo raggeta nell'altra turnazione giochiamo gogeta anche se qua potrebbe essere preferibile giocare gocurale che però non linka un cavolo con chelo e caulifla quindi ho preferito giocare gogeta che gli dà sì meno boost in passiva o almeno linka per un totale di boost maggiore e abbiamo poi triade di supporto ovvero sempre viola broli e paragas tora dato che ho voluto mettere più budget possibile non ho messo tarnes e poi caulifla che servirà come off tank off dpt per quello che riesce a fare dare quel 20 per cento in più di stanza che le caulifla il team funziona anche in questa forma è carino e di sicuro può divertire come team free to play invece questa è l'opzione che consiglio il team non è stato facilissimo da fare ci ho messo abbastanza a trovare qualcuno da mettere in tornazione con che le caulifla che fosse minimamente decente e in parte ci sono riuscito ovvero ho preso l'unico pg che mi se c'è in caso un qualcosa jointed force ovvero il carissimo raggeta agl quindi raggeta farmabile naturalmente è pensato ad essere full ability non farà tantissimo ma funziona c'è anche semi splashato gohan semi splashato perché prende solo la leaderskid di cale e caulifla e non quella del nostro carissimo yamcha però funziona lo vedrete pochissimo quindi non dovrebbe subire troppi danni altri due buffer ginio lr grassaio nell'r molto più difensivo come team dato che i maggiori boost sono alla difesa grassa 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 però funziona yamcha dice ancora la sua go quarale e forte come lr quindi ce la si fa non è un lr troppo difficile da avere come team in quanto l'unico pg che davvero ci può essere difficoltà magari yamcha da ability alta bisogna avere delle top nel torneo che inizia da poco magari non ce la fa ma per il resto funziona abbastanza vi permette di giocare la che le caulifla mica in un team alla fin fine free to play potrei pensare a portarvelo in video questo team a breve dato che col server privato riesco ad avere un pochino tutto quanto ad ability alta fatemi sapere se volete magari vedere una rano 2 di questo team per quella rubrica che devo iniziare dei team free to play infine parliamo delle mie considerazioni riguardo il team joined force allora il team joined force attualmente esiste finalmente abbiamo un team che si può dire non essere for fan alla cavolo ma un team esistente ha un'offensiva buona gli do un 90 su 100 semplicemente perché a oggi abbiamo dati molto buggati per la versione comunque futura sappiamo che gokusa non sarà sempre al massimo quindi non arriverà ai danni che le ce fa in altri team ma solo un 130 per cento di boost mi raccala tutto questo non me la sentivo di dagli più di 90 difensivamente ha qualche problemino a mio avviso perché non ha tanti pg che riescono ad avere sempre una base di difesa alta però se la cava è come supporto a pochi supporti ma buoni gli do comunque un tier di s più quindi ottimo non è un tier z che praticamente ormai sono soltanto i team 150 più per cento con gokusa dentro però funziona comunque al meglio ha alcune possibilità di personalizzazione ma non troppe anche perché a pensarci bene la personalizzazione più alta richiede le doppie LR perché se tornate a vedere quali sono i dpt moltissimi richiedono la doppie LR bojack richiede anche il bojack più piccolino virus LR richiede anche l'altro virus e il problema maggiore diventa che molti di quelli non sono più joined force quindi non riescono più a entrare al massimo arrivando quindi ad avere dei problemi zamasu non aveva problemi perché comunque rose masu ha nella forma tour black e zamasu insieme però bisogna stare un attimino attenti finalmente inoltre c'è un team in cui TNLR ha un minimo di senso logico di esistere purché sia tra le peggiori LR del mondo quindi vedremo un pochino tutto questo io vi ringrazio e vi auguro una buona pasquetta ci vediamo domani non con la nuova boss rush che dovrebbe uscire mercoledì ma ditemi voi se volete vedere magari questo team free to play in azione con qualche evento più che boss rush boss rush dopo un pochino a farla sempre sono sempre solito di battaglia ma non è sempre memoria faccio magari 2-3 eventi con questo team e ve li mostro uno dietro lato in modo da farvi vedere come gira fatemi sapere io vi ringrazio e vi auguro di nuovo una buona pasquetta e per chi sta pullando ancora perché è Califla in bocca al lupo